Negli ultimi tempi diversi sono i casi di furto in appartamento che si registrano tra Lecce e provincia, spesso con conseguente arresto dei responsabili. Gli ultimi colpi in ordine di tempo si sono registrati sabato sera nel sud Salento, in alcuni appartamenti a Matino e a Racale. Anche in questo caso è scattato l'arresto Lampo, con recupero dell'area furtiva. A Taviano, infatti, i carabinieri della locale stazione, a seguito di una immediata indagine subito avviata, hanno infatti arrestato un ragazzo di 34 anni, ritenuto responsabile di entrambi i furti. Il giovane era alla guida di un'auto, fermata dai militari. A bordo è stata rinvenuta l'intera refurtiva, un computer portatile e alcuni elettrodomestici, tutti oggetti riconosciuti dai legittimi proprietari e a loro subito restituiti. Il 34enne è stato accompagnato nel carcere leccese di Borgo San Nicola.